Allora che adesso vi guardo giocare, tu sei del Milan secondo me, sei del Milan, che è il più scarso, sei scarso, no, eh sì, lo dico io, ah sì Allora siamo ai campi Vertigo a Terra Negra per inaugurare un'iniziativa molto molto particolare, insieme per superare le barriere, insieme per superare le barriere perché facciamo giocare a calcio dei ragazzi diversamente abili Lo sport tiene le persone unite e fa sorridere, infatti, e fa sorridere, e fa sorridere, questo è il nostro principio di tutto quello che dalla mattina alla sera cerchiamo di organizzare per i ragazzi Manuele, vieni, abbiamo tanti noi qua di professionisti, vieni Manuele, che ruolo giochi? Per me come attaccante, come attaccante, quindi ci aspettiamo dei gol a te Io spero che sono, uno sono interista perché sono pure interista, ma sempre forza al gruppo di Dede perché sono bravi compagni, sfasceremo tutti gli altri avversari Sfasceremo, però non è una bella parola No, come si dice, ammettete di, ammettete di, ammettete di un po' difficoltà In difficoltà, rimetteremo in difficoltà In attacco In attacco, anche tu, tutti in attacco siete Eh sì, è vero Avete fatto già degli allenamenti? Boh, anche io Tu, tu, dove giochi tu? Attaccante Anche tu attaccante? Sì Che squadra tieni? Sì, sono i numeri due Juve È la Juve, quindi un interista in Juventino Giochiamo contro l'AS di Calcio Veneto Anzi, qui abbiamo anche il vicepresidente È la seconda volta che ci troviamo con la DAD Siamo felici di condividere queste esperienze Noi siamo un'associazione un po' più vecchia Nel senso che siamo nati quattro anni fa E facciamo attività per atleti celebrolesi Mi chiamano da qua giù, no? Perché, cosa volevi dire? Eh Che tu sei? Padva Credo a te Attaccante anche tu? Sì È un aiuto per loro Sia perché riescono a magari socializzare appunto con i nostri ragazzi della nostra società E un aiuto anche per i nostri ragazzi Buongiorno mattino Ciao